Secondo me, la cosa molto importante è cercare di fare il tuo lavoro, la tua passione, sempre al massimo cercando di metterci tutto te stesso. E naturalmente i tifosi, quelli che sono appassionati, nel nostro caso di corse di moto, lo vedono. E quindi probabilmente è questo il miglior modo per trasmettere il canto. Questa settimana, per me, mentalità è molto difficile, perché ho aspettato un risultato e il risultato un risultato. Ho molto elevato, e questo è quello che mi fai lavorare ogni giorno e farci più difficile. Questo è il mio primo anno di moto GP, è davvero difficile, la categoria è davvero molto forte, quindi mi bisogna essere attenzionati, lavorare sempre, e, beh, humber. e che si muerta un grande riscone che ciò che mi ha fatto mi sentito che mi ha fatto accanto. Il mio giovane di essere una volta che per me è un po' di più più di 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 più. Finalmente è stato io e quindi è più le più meglio. Io sempre penso che i miei colleghi bai che hanno un po' di più solo un po' di più di più di più. Il mio giovane è il mio giovane di 20 anni che ha fatto da una bicicletta all'altra. Quando ando sulla bicicletta, mi sento che sono tornato. E questo è importante per prendere il massimo. Tutti, non solo io, tutti andiamo a passare alcune difficoltà. È parte della definizione della vita. L'opportunità di imparare e di ottenere. È attraverso le difficoltà che puoi traspare queste e di ottenere. E a volte non è più facile. È solo un po' di tempo. È solo un po' di tempo. È solo un po' di tempo. La vita deve insegnare le lezze. Ma senza queste lezze, la vita deve insegnare. La musica è solo la mia bestiazione, quindi mi aiuta a capire. Due Yamaha, ha una passione.